...e trovo la mail di Casparri che mi invita gentilmente a votare Marchini. Allora, a parte Casparri quando mandi una mail, cancella qualche nome, se no io ti faccio via per culo da tutta la piazza. E chi voterà Marchini sappia che lo sponsorizza Casparri. E allora, parliamoci chiaro, cioè non è una questione di scelta, è una questione di sopravvivenza, è una questione di dire mi hai fregato una volta, mi hai fregato due, mi hai fregato tre. Ah, guarda, te frego io. Oggi ce l'hai un candidato Roma, oggi c'hai un movimento che ha dimostrato di saper governare, perché signori miei stare all'opposizione con questa gente è un po' governà, perché dei bastoni tra le ruote gliene abbiamo messi tanti e lo dicevamo, quando ci hanno denunciato perché andavamo con le mani sporche di petrolio, perché dicevamo che lo sfascia Italia non avrebbe rimosso nulla, non avrebbe mandato avanti l'economia, che era una mancetta agli soliti amici, dopo un paio d'anni, non un paio d'anni magari, dopo un paio di mesi si scopre che tutta quella roba serviva per il fidanzato del ministro, per la Codal, perché ci fanno pagare pure il tubo e tutto questo ce lo lasciamo passare così sulle spalle. Facciamo finta che non è successo niente, guardiamo la televisione, guardiamo Barbara Russo, guardiamo la Rai che te la fanno pagare che è stata militarizzata, che più? Vedi solamente Renzi, anzi lo vedevi, perché adesso ha capito che sta a perdere un po' dei consensi, allora è diventato che se vinceva il sì avrebbe vinto lui, adesso se vince il sì ha perso il movimento, perché sta cercando in qualche maniera di usarci anche per fomentare le persone, ma quando vi dicono il movimento no non lo voto perché Beppe Grillo strilla, perché la taverna è coatta, ma vi domandate, ma perché allora vedi quello che è il mafioso, vedi quello che è taruppato, vuoi quello che si è mangiato tutto il paese? E vorrei vedere, vorrei vedere, se ti lasciano un paese come quello che hanno lasciato a noi, se ti lasciano una città come quella che ci hanno lasciato a noi, la guardate Roma, ci andate in giro vero? Camminate sulle strade, se riuscite a trovare la strada fra una buca e l'altra, perché ormai il problema non è schivare la buta, è trovare la strada, devi fare tipo la gincana, qui c'è passo, qui no, qui sì, qui no. C'è girare per Roma, li guardate i palazzi, li vedete di secchietà, mondezza, li guardate le periferie. Io non so quanti so fortunati che abitano al centro e manco so più fortunati che sta al centro, ma chi abita in periferia, se la sento un po' sulle spalle la responsabilità di aver visto la propria città morire giorno dopo giorno, è quasi che abiti in un altro paese, non li compete più, t'hanno messo lì, avevano portato dentro tutti gli immigrati rom che non sono loro il problema, il problema sono chi li ha fatti entrare perché erano fonte di soldi, fonte di guadagno, e t'hanno fatto credere che il problema era la guerra sui poveri, che il problema è quello che c'è al lavoro, no lo Stato che lascia te senza lavoro e se ne frega. Gli 80 euro furono scientificamente dati a quella fascia di persone che li votava dagli 8.000 ai 26.000. E poi, quando io che prendo 8.000 euro l'anno, 8.000 l'euro l'anno, signori questi 8.000 euro, se forse li spendono con la cena di finanziamento come quelle che siamo stati abituati tanti anni a veder fare puntualmente quando c'erano le elezioni, noi abbiamo fatto il parlamentare che serve, siete venuti, avete finanziato gentilmente una campagna elettorale dell'unico movimento che non prende soldi pubblici, non li prendiamo e questa è una cosa che continuiamo a ripetere perché c'è gente che ancora non ci crede, che ti dice se sei vabbè, sei uguale all'altro, no, io non voglio essere uguali all'altro e non vi attardate a dire che siamo uguali agli altri, non lo siamo e non lo diventeremo, è la loro speranza, ogni volta fanno finta che siamo un po' più uguali a loro, ma perché? Ma me ne sembro uguale alla Garfagna, io scusate, eh. Mi è venuta in mente la Garfagna perché è candidata al consiglio comunale a Napoli, ma voi c'ha la vedete la Garfagna che fa consigliera comunale a Napoli? Ci prendono per deficienti, ci trattano come i tenopotomizzati, come, ma secondo voi la Meloni, se non vince non diventa sindaco e non ci diventa perché il suo vostro è che scorda, eh, ma va a far consigliere comunale? Giacchetti va a fare il consigliere comunale, lascia la poltrona da 20.000 euro, ma già l'ha detto, io qui sto seduto, vedo come va, salvo la faccia a sto pd che non sapeva proprio chi mette, non sapeva chi andrà a cercare, ha trovato uno che è un po' radicale, un po' con sta faccia da bravo ragazzo, fa finta pure di somigliare di Battista ultimamente, l'avete visto? Ma lì non ti ho scaviciato, no, ti conoscevo, non ci devi provare, e così sono tutti, sono tutti così. Io non me li preparo i discorsi perché so che non sono capace, poi quando salgo guardo le persone e mi rendo conto di quanto sono stata fortunata di aver avuto, grazie a Beppe Grillo, che nessuno di noi dimentica e vuole permettere che qualcuno dimentichi che questo sogno è nato dal coraggio e dalla pazzia di due uomini meravigliosi come Beppe Grillo e come Giannotterto Casaleggio. Noi siamo orgogliosi della nostra storia, siamo orgogliosi dei nostri spazi, siamo orgogliosi dei nostri tentativi, di liberati, di formare la distinzione della Costituzione, gli unici, quando ancora non se ne parlava. Per l'articolo 138 siamo stati disfidenti e abbiamo detto che non si poteva fare, sono andati avanti come treni, sono andati avanti, mentre c'era una mozione di sfiducia approvano la riforma costituzionale, la schiforma costituzionale. E voi siete chiamati a fare un processo importante che è quello di cominciare a non dimenticare. Continuate a ricordare tutto quello che in 40 anni hanno fatto, da Rutelli a Veltroni, a Alemanno, a Marino. Io vorrei avere qui sotto qualcuno che mi dice cosa hanno fatto queste persone per la nostra città. Sono 40 anni che se la stanno mangiando. E allora un'occasione, una, non a noi, perché se vince il Movimento 5 Stelle, dopo la vittoria, sarete voi a governare. Questa è la vera sfida. Ogni volta dovrete essere voi a sentirvi parte integrante del cambiamento. Quando scegliete di non parcheggiare in doppia fila, quando scegliete di non buttare la carta in terra, quando scegliete l'onestà, la legalità, quando scegliete di non passare davanti nella fila, di non chiedere un favore, avete dei diritti. È solo per quello che ci battiamo. Per i miei, i nostri diritti. Questo è quello che ci ha spinto. Ogni giorno, ogni giorno, chiamo a mio figlio, che per me è fonte di croce e delizia, perché ogni tanto se nasce con delle cose, altra volta mi ha detto, ma io voglio diventare francese. Gli ho detto, meglio che rinziano, fa quello che ti pare. Gli ho detto, perché vuoi diventare francese? E siccome vive con me, un po' lo sente. Mi guardo e mi dice, ma l'hai visto che stanno a fare questi per Jobs Act? Non si sono fatti alla foto con Enzi. Dopo che ha provato il Jobs Act, c'è la gente che si faceva il selfie. Hanno portato via tutto. Fermatevi e pensate. Non avete più diritto al lavoro. Non avete più diritto alla scuola pubblica. Non avete più diritto alla pensione. I ragazzi dell'86 si vedono arrivare la busta arancione dove c'è scritto forse a 75 anni va in pensione, forse. Te do forse 400 euro. Può darsi. Però ti posso dire che è diminuita l'aspettativa di vita. In Italia è diminuita l'aspettativa di vita. Vuol dire che le persone non si curano più. Vuol dire che ci sono 10 milioni di poveri che fanno finta che non esistono. Ricordatevi gli 80 euro da 8 a 26. Quelli che stavano senza niente, non hanno avuto niente. Quelli che gliel'hanno dati si sono ripresi. Questo è il paese che viviamo. Queste sono le persone che ci governano. Queste sono quelle alle quali ancora qualcuno vuole dare un voto. Ma perché? Non vi dite perché votate il Movimento 5 Stelle. Chiedete perché votano gli altri. Perché? Qual è l'unico motivo? C'è qualche convenienza? E allora avete l'opportunità. Ed è veramente un momento storico questo. Uno spartiacque. Non è detto che avremo ancora occasioni per poter essere un paese libero. Un paese che sceglie. Perché se passa la riforma costituzionale è previsto... Veramente mi ricordava prima Irola. Sembra che se vanno a Magnappure il referendum su monarchia o repubblica. Vanno a riportare la monarchia. Tanto a loro dei referendum gliene frega niente. Tipo quello sull'acqua. Tipo quello sui finanziamenti ai partiti. Tra un po' si scorderanno pure che siamo in una repubblica. E rifaranno una monarchia. Solo che stavolta il re è tosto. Perché un re come il re Renzi sarebbe la fine di quello che è lo stato sociale. È una persona legata a Magnappure ai poteri forti. È una persona che lo dimostra in ogni scelta che fa. È una persona che probabilmente ha sopra di lui ancora qualcuno più intelligente. Perché manco per fare questo disastro ha avuto l'intelligenza giusta. E allora Virginia Raggi è la persona che il Movimento 5 Stelle ha democraticamente votato, scelto e portato avanti tutti insieme. Noi non siamo eterodiretti. Noi siamo una squadra. Noi siamo una squadra e questo fa paura. Perché loro sono tanti piccoli uomini. Tanti piccoli uomini da soli. Noi siamo un popolo. E un popolo quando si rivela non esiste monata che regga. E voi potete essere quel popolo. Roma può essere l'inizio. Roma deve essere l'orgoglio del Movimento 5 Stelle. E lo faremo. Grazie al Movimento 5 Stelle e a Virginia Raggi. E grazie a voi. Spendita piatta.